Ma ti ricordi i pop-it? Certo! Ci abbiamo giocato, ci abbiamo anche cucinato e ci siamo pure rilassati Ma adesso che cosa ci faccio? Passo al livello, pop-it pro Ma come funziona? Semplice, schiacci il bottoncione che c'è qui sul retro Wow, ma interattivo! E ha tre modalità di gioco Gioco 1, 20 livelli super pazzi Ah, tu non lo so se premi dietro Hai visto? Eh, bello del pop-it interattivo E senti come poppano bene Voglio giocare anch'io Certo! Gioco 2, poppa e passa Io li poppo E dopo che ha finito schiacciando il bottone C'è la freccetta pucciosa Giocca a me! Vai! Chi sbaglia di poppare è fuori dal gioco Non ti sono! Gioco 3, poppa più che puoi Quindi lui adesso tiene conto delle popate che sta facendo Vediamo 10, 20, 30, 40, 6 E poi è anche buccioso Super carino!